Minister, una sconfitta un po' pesante, siamo la seconda di campionato, appunto Castegnato-Desenzano 4-1 e chiediamo un po' un commento su questa partita un po' sfortunata. Ma abbiamo, siamo partiti bene, abbiamo concesso poi troppo, troppo, nelle difficoltà non ci uniamo, non facciamo compatto il reparto offensivo e difensivo ma subiamo troppo l'uno contro uno, bisogna solo fare quadrato e quando si fa in difficoltà cercare di chiudersi e ripartire mentre noi rimaniamo nella stessa situazione come se la palla fosse nostra, questo è un grosso errore. I ragazzi si sono impegnati, abbiamo qualche defezione che dà qualche attenuante sul risultato ma questo non giustifica il risultato odierno.